Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, oggi ragazzi finalmente è arrivato il giorno dell'unboxing del piccolo drone di casa FIMI, il FIMI X8 Mini, questo drone super chiacchierato perché comunque è il primo vero rivale del DJI Mini quindi non poteva che essere un drone super chiacchierato, chiacchierato nel bene e nel male però super chiacchierato, è qua tra le mie mani, eccolo qua, non l'ho ancora aperto, è ancora impellicolato perché ci tenevo appunto aprirlo con voi per trasmettervi a primo impatto le sensazioni che ricevo nell'andare a visionarlo, nell'andare appunto a guardare nei particolari com'è questo drone perché comunque è bello trasmettere le sensazioni, quelle proprio a caldo, quelle sensazioni che ovviamente poi magari andranno a cambiare con le varie teste, le varie prove però ci sono queste sensazioni che è bello trasmettere e che si hanno solo appunto quando si va a aprire un nuovo prodotto, ovviamente avete già visto altri unboxing di questo drone sui vari canali youtube però ci tenevo a farlo anch'io perché comunque avendo un parco droni importante, avendo pilotato veramente di tutto tra droni costosi e droni low cost, si può avere subito delle opinioni e fare delle considerazioni già solo guardando il prodotto, quindi ragazzi andiamo a fare l'unboxing, allora abbiamo il biglietto FIMI thank you che ci ringrazia dell'acquisto e qua abbiamo subito il FIMI x8, vado a ribaltare la scatola, eccolo qua, come avrete visto nei vari unboxing abbiamo la scatola che ci fa vedere il drone sia bianco che arancio, attualmente è disponibile solo bianco, prossimamente arriverà appunto anche la versione arancio che poi probabilmente andrà a diventare il rivale dell'Hotel Evo perché come sapete è in arrivo anche l'Hotel Evo Mini quindi un drone sotto i 250 grammi anche di casa Autel e sicuramente sarà un drone arancio, quindi il FIMI Mini x8 versione arancio sarà sicuramente un rivale dell'Hotel Evo Mini. Allora il drone come vi ho detto è bianco, andiamo ad aprirlo, vedete che è ancora impellicolato, quindi andiamo a tagliare la confezione andiamo a tagliare il sigillo ecco qua subito il FIMI x8 Mini, bianco si perde un po' all'interno della confezione, vado a metterlo da parte un attimo, c'è il coprigimbal che è già una novità di casa FIMI perché come sapete tutti i vari x8 non avevano il coprigimbal, bisognava o stamparselo con la stampante 3D o andare a comprarlo da terze parti che avevano iniziato comunque a produrre un prodotto che funzionava bene ma non era all'interno della confezione di un drone e un drone che ha un gimbal stabilizzato meccanicamente su tre assi che non ha un coprigimbal ragazzi non si poteva proprio vedere. Andiamo a vedere cosa c'è ancora all'interno della confezione quindi abbiamo il manuale di istruzioni, manuale per quick start quindi per avvio veloce, qua abbiamo il radiocomando che tra poco andiamo a guardare, poi sotto abbiamo la scatoletta con all'interno, andiamo a vedere quanto cellophane, tanto cellophane, allora abbiamo una presa type c usb e i cavetti type c, lighting, usb mini e type c quindi per poter collegare qualsiasi tipo di dispositivo al nostro radiocomando. Allora poi abbiamo l'eliche di ricambio con le viti perché comunque non abbiamo lo sgancio rapido ma non le abbiamo neanche sulle DJI mini quindi ci vuole sempre un cacciavite, viti di ricambio e eliche di ricambio. Allora nella confezione quello che abbiamo è tutto qua anche perché non è che bisogna avere qualcos'altro, quello che c'è è quello che serve. Allora andiamo a vedere il drone, ragazzi il drone è bello eh, devo dire che è bello, non mi aspettavo, me lo aspettavo un po' più diciamo economico dal punto di vista delle plastiche, invece non sono male, secondo me non sono proprio a livello di quelle di DJI ma sono comunque delle plastiche buone, migliori di tantissimi altri droni low cost e qua pur mantenendo un peso ridotto, perché comunque parliamo di un drone che arriverà sotto i 250 grammi perché come sapete attualmente non è sotto i 250 grammi, pesa 258 grammi perché ha delle batterie che pesano un pochino troppo e la versione di batterie con minor peso deve ancora arrivare. Quindi diamo un'occhiata alle batterie che sono la parte dolente di questo drone non tanto per la qualità o la durata ma per il peso, quindi questa versione che è la versione appunto più pesante che ha delle batterie da 7,2 volte da 2400 mini ampere, dovrebbero essere batterie agli ioni di litio, mentre nella versione diciamo quella pro, cioè la versione di batterie pro, dovrebbe avere delle batterie al lipo, perché DJI è riuscita a mantenere il peso di 249 grammi avendo delle batterie agli ioni di litio, che secondo me sono migliori appunto per un discorso di durata nel tempo e meno problematiche dal punto di vista del mantenimento, però probabilmente Fimi con le batterie agli ioni di litio non è riuscito ad abbassare il peso e ha fatto le batterie al lipo per abbassare il peso, poi magari invece ci sono altri problemi che loro hanno avuto, mentre DJI ovviamente non ha avuto perché è riuscita ad utilizzarle. Andiamo a vedere il gimbal e devo dire che è carino, è fatto bene, non è per niente male, devo dire che pensavo peggio, ma pensavo peggio in tutto, invece devo dire che è davvero un bel dronino, pensavo davvero peggio. Allora qua sotto abbiamo l'optical flow, poi abbiamo i due sensori, quindi completo veramente in tutto per un discorso appunto di sicurezza e stabilità di volo, poi qua dietro abbiamo la presa Type-C per la ricarica della batteria, perché la batteria si può ricaricare direttamente andando ad attaccare il cavetto alla presa Type-C qua dietro, ricarichiamo direttamente la batteria, quindi non serve nient'altro per poter ricaricare questo tipo di batterie. Qua dietro abbiamo lo slot della microSD che ovviamente non è in dotazione come non lo è mai in nessun drone. Ah no, Autel, nel primo autelivo che aveva acquistato aveva anche la microSD della SanDisk in dotazione, quale è stata un'eccezione, veramente un'eccezione, ma normalmente nessun drone ha all'interno della confezione una microSD. Poi sempre qua dietro abbiamo una presa microUSB e uno switch che serve per far switchare il drone in modalità Wi-Fi, cosa vuol dire? Che il drone può essere pilotato direttamente con lo smartphone senza l'utilizzo del controller, questo switch serve appunto a questo, creare una rete Wi-Fi che verrà vista dal nostro smartphone e ci permetterà di pilotare il drone direttamente dallo smartphone senza utilizzare il suo controller. Poi dal punto di vista estetico bello, devo dire davvero davvero bello, i braccetti belli, stabili, guardate, non hanno la minima flessione, quelli dietro poi ancora meno, ma anche quelli davanti veramente veramente senza flessione. Il discorso della chiusura a livello di molle è davvero buono, quindi non si ha proprio la possibilità che si vadano a chiudere o creino comunque delle vibrazioni perché le molle tirano tanto, devo dire davvero davvero bello. Come sapete FIMI è dichiarato un bitrate da 100 megabit per secondo, quindi un bitrate molto alto, però il FIMI Palm 2 era dichiarato a 100 megabit per secondo, invece non ci arriva, arriva intorno ai 50-60, una cosa del genere se non mi ricordo, comunque l'avevo fatto vedere nel video in cui l'avevo recensito e speriamo che anche qua non siano 100 megabit per secondo scritti sulla confezione, ma poi un 50-60 perché nei 4K iniziano ad essere un pochino bassi per avere una definizione alta di dettaglio. Quindi a primo impatto un drone che non mi ha deluso, ha deluso solo un discorso di peso che attualmente è un drone che ha bisogno del patentino online, oltre che l'assicurazione ma quello tutti, perché comunque pesa più di 250 grammi, sono 8 grammi che attualmente lo fanno rientrare in una categoria in cui ha bisogno del patentino online. Allora vado a accantonare il drone e andiamo a vedere il radiocomando. Il radiocomando secondo me è bello, anche le plastiche non sono male, non sono i radiocomandi quelli super economici che siamo abituati a vedere nei droni da 100-150 euro, anzi direi che un discreto radiocomando anche a livello di qualità? No, davvero niente male. Secondo me è più bello di quello del Mini 1 che aveva un radiocomando proprio minimal, minimal anche dal punto di vista proprio della qualità delle plastiche e anche del proprio del tipo di radiocomando, era proprio davvero un radiocomando veramente super minimal, qua invece un radiocomando niente male, non è quello del Mini 2 che ha un radiocomando più ingombrante, ma un radiocomando veramente con le contropalle perché è un radiocomando che poi abbiamo anche sul Air 2 o Air 2S, quindi capite bene che non è un radiocomando peciotto. Guardiamolo un attimo come sono impostati i tasti, allora qua il tasto di registrazione video, qua il tasto di scatto delle foto, qua la rotella di regolazione del gimbal, qua accensione e spegnimento del radiocomando che vado ad accendere, vedete che lampeggiano tre led, ne ha quattro quindi è quasi carico tutto e qua abbiamo il tasto del return to home, qua la presa type C, qua sotto gli stick che si possono montare e smontare perché ovviamente essendo poi un drone veramente compatto, un radiocomando compatto, è comodo metterlo direttamente nello zaino senza troppe diciamo complicazioni. Per lo smartphone invece non ha nessun supporto perché il supporto è lui, praticamente vedete si allunga e possiamo inserire direttamente lo smartphone all'interno del radiocomando come succedeva per il Fimi X8, per il Fimi X8 2020. Provo a prendere il mio iPhone 12 pro per vedere come ci sta, e ragazzi vedete rimane una cosa di questo tipo. Allora se calcolate che questo è un iPhone 12 pro, vado ad allungarlo, abbiamo ancora un paio di centimetri, si ci sta tranquillamente anche un iPad mini. Poi il movimento degli stick è bello, la corsa, la molla, la sensibilità direi niente male, per essere comunque ripeto un drone che se vogliamo è low cost rispetto a quello che è DJI, devo dire che invece anche dal punto di vista del radiocomando davvero niente male. Poi vado a prendere il cavetto lighting, vedete che c'è tutto il mazzetto di cavetti, quindi prendete quello adatto per il vostro telefono, vado a prendere quello lighting, vado a collegare il cavetto nella presa type C qua sotto che serve ovviamente sia per ricaricare il controller che per inserire il cavetto OTG, quindi vado a collegare il cavetto al telefono e poi vedete che in questa fessura che abbiamo qua, andiamo a inserire la spinetta del cavetto, quindi il telefono andrà praticamente proprio a innestarsi a pari di quello che è la sede che abbiamo qua sul fianco, allunghiamo il controller e ragazzi ecco qua, quindi abbiamo il cavetto in questa posizione e il radiocomando e lo smartphone che diventano una cosa unica. Questa soluzione è una soluzione secondo me davvero buona che ha inventato FIMI, mi piace davvero tanto, anche se abbiamo questo radiocomando che diventa un po' largo, però dal punto di vista pratico davvero davvero vai, l'avevo apprezzata anche ovviamente sul FIMI X8. Allora ragazzi, penso di avervi fatto vedere tutto quello che c'è dal punto di vista delle prime considerazioni da fare di un drone che è il primo vero rivale del DJI Mini 2, perché ovviamente il primo drone sotto i 250 grammi con gimbal stabilizzato meccanicamente su tre assi e che è sicuramente con caratteristiche sulla carta simili a quelle del DJI Mini 2. Anche se il confronto diretto non ci può stare per un discorso che sono due prodotti di due fasce di prezzo completamente diversi, anche se le caratteristiche sono simili, ma proveremo appunto quello che sono le caratteristiche di questo drone, nel senso che quello che viene dichiarato, perché è vero che un drone che non può essere paragonato totalmente a un Mini 2, perché comunque la differenza di prezzo è davvero abissale, però c'è anche da dire che non per questo quello che viene dichiarato sulla confezione non deve essere rispettato, perché comunque DJI dichiara determinate caratteristiche e poi nella realtà mantiene quelle caratteristiche. Questi droni Love Coast di solito tendono un po' a avere delle caratteristiche diciamo un po' pompate sulla confezione, poi nella realtà non le mantengono e quello non è corretto perché non è corretto per chi acquista quel drone, quindi determinate caratteristiche vanno mantenute, il 4K, se è un 4K con 100 megabit per secondo deve avere 100 megabit per secondo, non diventare 50 quando andiamo ad analizzare il video. Stessa cosa può essere la resistenza al vento, viene dichiarata una resistenza al vento di quinto livello, quindi simile a quella delle Mavic Mini 2 e poi se ha la resistenza al vento in realtà di quinto livello non ce la fa a star fermo, allora a quel punto è comunque una cosa non corretta verso chi acquista questo drone, quindi sulla confezione andava scritto resistenza al vento di total livello, poi magari resiste come il Mini 2, perché comunque se è una caratteristica dichiarata deve comunque essere rispettata, se no c'è un po' di non correttezza verso chi acquista i prodotti, però sono considerazioni che vanno fatte sui droni Love Coast che tendono sempre un pochino a pompare quello che viene scritto sulla confezione. In attesa che arrivi questo Absanzino Mini Pro, che sembra avere caratteristiche addirittura superiori a quelle del DJI Mini 2, qua invece ci accontenteremo di vedere quanto si avvicina al DJI Mini 2. Quindi ragazzi, spero che queste mie prime considerazioni a caldo, mie prime impressioni, vi siano state utili, anche perché sono sincere e vero, comunque l'ho acquistato, quindi se faceva schifo, potevo dire tranquillamente che faceva schifo. Quindi se questo video vi è piaciuto lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, curiosità, porterò gli spoiler magari delle prime prove, non so, seguitemi su Instagram dove arrivano sempre tante cose, voline FPV, stampe 3D, seguitemi sul mio canale Telegram Offerte se vi va per sostenere questo canale, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, un'accensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao!